C'è 105 e mi casa, metti a palla 105 e fai sentire che ci sei, tu ci sei, c'è 105 e mi casa Sono felice perché questa sera conosco Fasma di persona che non conoscevo, ciao benvenuto Grazie mille Benvenuto Gigi, produttore di Fasma, voi state vicino dall'inizio no? Sì sì, è partito insieme ed è bello vederci ancora qua no? È bella sta cosa, ma proprio dalla prima canzone Dalla prima canzone, proprio significa che si può sognare e si può fare Basta volerlo fare, siamo fatti forza vicenda diciamo perché poi queste cose Eh lo immagino, sì perché poi uno magari adesso vede che la canzone va molto bene e quindi sembra tutto facile Ma prima ci sono tutto invece una serie di percorsi abbastanza complessi da superare E poi è sempre così perché di facile non c'è nulla in questo mestiere Mi piace però raccontare una storia quando parlo di te legata all'ultimo festival di Sanremo Tu sei nei giovani di Sanremo, vieni eliminato La tua canzone dal giorno dopo inizia a spaccare È una bella storia questo Sì sì totalmente Sicuramente noi siamo andati a Sanremo non con la competizione nel dire Andiamo là, dobbiamo vincere, dobbiamo avere il premio in mano Sicuramente siamo arrivati a Sanremo quasi come un gioco Perciò trovarci là era già quasi un sogno a occhi aperti Poi ecco secondo me la vera vittoria nostra è vedere che anche tramite uno schermo siamo riusciti ad arrivare diretti nelle case di ognuno Perciò la cosa più bella è vedere che anche se poi non ci siamo comunque tornati grazie alla televisione siamo rimasti grazie alla musica C'è da dire però una cosa che tu sei arrivato a Sanremo già con un nome in un determinato ambiente E c'era un'attesa su di te Cioè alcune tue doti La tua dote è anche comunicativa Che hai nei brani Diciamo che gli addetti ai lavori già la conoscevano Poi ecco Sanremo serve anche quello a far esplodere dei valori In questo momento la tua è una delle canzoni più streammate in assoluto La vostra certo Nel nostro paese È bello questa cosa che tu utilizzi il plurale Pensate che quando è arrivato in radio mi ha detto guarda che io voglio che stia dentro anche Gigi nell'intervista No è bella questa cosa Perché è nato insieme ed è giusto comunque cioè per me non esiste Oggi non esisterebbe un Fasma senza un Gigi accanto Certo Cioè comunque in un momento nel quale era difficile anche dir di no O era anche difficile scrivere un testo perché comunque molte volte ti trovi di fronte alla realtà A una realtà che comunque non ti permette molte volte di sognare Ed è stato bello che invece noi questa realtà l'abbiamo vista non come un punto d'arrivo e come un limite Ma come un punto di partenza Certo Perciò quello che consiglio a tutti è di definire la propria realtà e non di farsi definire la propria realtà Ma l'incontro che c'è stato tra voi due no? L'avete un po' raccontato? Cioè si può raccontare? Sì sì O la famiglia di Gigi si preoccupa? No 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 Per fortuna sono abituati peggio Perché i ragazzi mi raccontano che si sono incontrati dopo una festa di maturità Una roba del genere Un amico in comune li presenta ma siamo a livello del ciao piacere Poi però Gigi quella sera lì Finisce un po' male Sì Festeggia un po' troppo Festeggia un po' troppo come a volte capita No? E finisce sdraiato da qualche parte Non so dove no? No è stato bello perché a un certo punto io esco per prendere una boccata d'aria E dici ecco esco proprio per non aver pensieri Mentre sono uscito e mi sono trovato un Gigi per terra Un Gigi selvatico Però ancora non era tuo amico di fatto Io non sono una Cioè relativamente comunque se trovo una persona per terra è difficile quasi la vado aiutare Soprattutto se la conosco la stessa sera Mentre è stato bello che capito questo buon animo di quella sera Ci abbia portato oggi perché comunque poi ci siamo avvicinati come degli amici Non come lavoro Cioè io facevo tutt'altro poi non facevo minimamente produzioni Tu facevi il DJ Io facevo il DJ Cioè facevo Tech House Tecno Pure il DJ di un altro genere Un'altra roba Ok Infatti la cosa divertente è che siamo arrivati a Sanremo entrambi pure senza aver mai studiato Realmente musica È bello Sì 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 È stato quello È bello perché stiamo riuscendo anche con questo album a maggior ragione A esprimere quello che abbiamo in testa Ma senza troppe regole musicali in realtà Per questo secondo me siamo riusciti a comunicare di più L'idea della musica senza genere Cioè è una cosa per noi abbastanza importante Comunque c'è soprattutto per quanto riguarda quando vado a scrivere un testo La prima cosa che faccio quando entro in studio con Gigi Non gli dico Oh bro facciamo una canzone rock Facciamo una canzone punk Gli dico oh bro oggi sono triste Oggi sono felice E perciò automaticamente La domanda è che mood sei Ma è un bel punto di partenza È interessante Ma infatti è questa Questa intimità che poi si crea tramite l'amicizia E grazie all'amicizia si è creata E poi si è tramutata in musica Qual è la traccia alla quale tenete maggiormente di questo disco che ho in mano Che si chiama Io sono Fasma Dobbiamo essere sinceri che devo parlare per nome di tutte e due Però ogni traccia per noi sta là per un motivo Perciò è come un po' dei bambini Cioè dei figli No lo immagino Perciò ti dico davvero Se è uscito un album è perché davvero volevamo presentare 14 tracce Non una non due ma 14 Perciò secondo me quest'album è un discorso E levarne una sarebbe come non concludere un discorso Ci sta È come preferire un figlio Sì 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 Sai a volte ci sono però delle canzoni un po' nascoste nei dischi Cioè magari non di facile comprensione o di doppia lettura Certo allora ti posso dire Che hai bisogno di ascoltarle un po' di più Quelle ci sono sicuramente Perché comunque ci sono canzoni molto particolari come SDA Che forse è una canzone che ammetto non è per tutti Però ecco la nostra idea di musica è la nostra idea di musica E ci è sempre piaciuto che poi è stata riconosciuta da altre persone Non perché gliela avessimo imposta ma perché l'hanno scelto Perciò questa certezza relativamente questo confronto Il rapporto che stiamo avendo con le persone che ci ascoltano E non mi piace chiamarli fan Ci ha dato modo pure di sperimentare E di rischiare ancora di più Perciò SDA ti posso dire che è una traccia che per noi è stata un bello esperimento Segnatevela SDA A proposito di persone che poi incontrate State facendo gli in store In questi giorni qualcuno forse è stato cancellato al nord Magari lo riprenderete poi Questa è una storia che più artisti mi stanno raccontando Però domani siete a Firenze Poi Bologna, Napoli e Bari Senti mi è piaciuta questa cosa che hai detto della rabbia Cioè fuori onda Si parlava del fatto che molte volte E forse anche a voi è stato detto Cerca di trasformare la rabbia in qualcosa d'altro Ci sono fasi della vita dove pensi che questa frase sia una cazzata Oppure che sia una delle tante frasi fatte Che però a te non va bene Sì totalmente E poi è un'esperienza personale secondo me Cioè per quanto riguarda la mia esperienza Come ti ho detto è sempre pensato fosse un po' La cosa che devi dire Un pochetto come quando si dice Tuo figlio studia ma non si impegna Ma potrebbe dare dei meglio È intelligente ma può fare di più Sono quelle frasi fatte che si dicono un po' a tutti Però poi quando davvero te ne rendi conto Per quanto riguarda la mia esperienza personale Che è stata tramite questa musica Come ti ho detto prima all'inizio era qualcosa di molto più inconsapevole Che poi oggi è diventata una consapevolezza Ecco questo È stato bello vedere che questa rabbia che mi portavo dietro Che non riusciva a sfogare in qualsiasi maniera Come ti dicevo prima È stato bello che alla fine era quello che c'avevo sempre a portata di mano Perciò un foglio e una penna E no questo è molto bello secondo me anche da raccontare ai ragazzi Perché ognuno vive giustamente la propria esperienza personale Gigi come sei passato dalla console Quindi dal suonare Tech House a iniziare a produrre Ma banalmente c'è con che programma? Come hai iniziato? In verità comunque un minimo di esperienza con Logic Ah già usavi Logic Nel senso a 13 anni, 14 anni usare Logic è un parolone Quindi avevo mollato completamente tutto E l'unico modo con cui sono arrivato sinceramente è tanto tempo Mi sono messo, ho detto io voglio fare questo nella vita Ci sono stati degli step naturalmente E piano piano continuando a stare notti in studio Giorno e notte perché alla fine ho capito una cosa Che per fare musica veramente secondo la mia visione A un certo punto devi decidere di fare quello E staccarti da tutto il resto E concentrarti soltanto su quello Perché poi soprattutto nel nostro caso Viviamo, nel senso io non riesco magari per una settimana a fare un album In una settimana perché abbiamo bisogno di avere esperienze Di vivere, di vivere, certo Bisogna vivere alla base di tutto Perché bisogna vivere e applicarsi tanto Mettersi tanto a lavorare Poi la base diciamo tecnica serve per convertire il vissuto in suono Ormai nel 2020 alla fine secondo me è la parte minore Capire come funziona magari un programma Per me è la curiosità La curiosità di dire io cavolo voglio farlo Faccio di tutto per quello che ho in questo momento tra le mani Faccio di tutto per riuscire ad arrivare al mio piccolo obiettivo Che è imparare, capito? Vi lascio due date per vedere i ragazzi dal vivo Che le ho qui il 3 aprile a Roma al Teatro Centrale E poi due giorni dopo a Milano ai magazzini generali Due bei live di presentazione Poi credo che proseguirete, che ne so, quest'estate in giro Ora non diciamo nulla Non si sa ancora nulla Raccontiamo Roma e Milano e parleranno loro per noi Bene, bene In bocca al lupo ragazzi Bello avervi incontrato Ciao Grazie a voi